. Amici 17, Maria De Filippi e il monologo sulla squalifica, è colpa di Biondo?. Ne turbini di notte per Roma o lavori socialmente utili, questa sarebbe la proposta di punizione di Maria De Filippi, i quattro sospesi e la riammissione. . In data odierna, sono state mandate in onda su Canale 5 le esclusive immagini dell'espulsione di quattro allievi dalla Scuola di Amici di Cancelletto Maria De Filippi, la celebre conduttrice del talent show più seguito dagli italiani è stata protagonista di un lungo monologo fatto dinanzi al pubblico di Canale 5 per confrontarsi con gli ex allievi che dovranno sostenere un esame di riammissione. . . Biondo è il responsabile? Maria si scaglia contro i quattro allievi espulsi. . 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 Potrete aiutare i netturbini romani di notte a pulire Roma oppure troveremo altri lavori socialmente utili, ha aggiunto la produzione di Amici in un rvm trasmesso nella puntata andata in onda questo sabato, in data 13 gennaio 2018. . Ho organizzato io il party e ho trascinato con me tutta la classe, ebbene si stando a quanto riportato dal cantante di Dayavu, definito da molti genio e sregolatezza, a cabbiondo, questultimo avrebbe organizzato un festino alquanto trasgressivo. . Intanto, i quattro ragazzi richiamati dalla commissione del talent show sono tenuti a sostenere un esame di riammissione alla scuola di Amici 17. .